suzuki vitara con cerchi in lega da 17 rear camera e schermo touch da 7 pollici oggi tu a 16.900 euro tutto di serie senza sorprese concessionaria renzo negri a pescate via roma 28 0341 36 22 21 www.concessionariarenzonegri.it panificio stucchi elena propone farina intera la tua nuova buona sana abitudine alimentare più fibre meno glicemia a calozio corte in corso dante 1 conf commercio e commercianti presentano notte bianca a calozio corte venite a scoprire l'intrattenimento per tutti negozi aperti l'itinerario enogastronomico musica dal vivo tanti giochi e non solo e dal 18 novembre fino al 25 dicembre conserva gli scontrini dei tuoi acquisti nei negozi aderenti di calozio corte in palio buoni spese ai ricchi premi per il tuo shopping natalizio i commercianti di via roma ti aspettano a vercurago per tutto il mese di dicembre tante iniziative interessanti e divertenti per tutte le età ti aspettiamo ben ritrovati carissimi telespettatori con sette calozioni calozio ginatese valle san martino in apertura parliamo di politica la prossima primavera si voterà infatti a calozio corte abbiamo i nomi dei possibili primi candidati sindaco stando alla situazione di oggi il centro destra probabilmente correrà unito mentre il centro sinistra quasi certamente diviso prime consultazioni che contano i primi nomi importanti in vista delle elezioni che si terranno a calozio corte la prossima primavera per la carica di sindaco la lega nord è pronta a puntare sul capogruppo uscente marco ghezzi in pole position anche se restano molto quotati anche i nomi del segretario cittadino luca caremi e del consigliere comunale cristina valsecchi in caso di alleanza con altre forze del centro destra il carroccio potrebbe però convergere sull'ex vice sindaco aldo valsecchi che con marco bonaiti sarebbe pronto a correre al fianco della lega dopo l'esperienza nel mandato a rigoni il capogruppo di lavoro sviluppo e libertà dario gandolfi è il momento però più propenso a formare un istone civico di centro di cui lui stesso dovrebbe essere l'aspirante primo cittadino per quanto riguarda la maggioranza uscente il sindaco pd cesare valsecchi ha fatto sapere di essere disponibile a una sua ricandidatura ma tutto dipenderà dall'unità del gruppo di centro sinistra tema non secondario viste le difficoltà e le divisioni soprattutto in casa pd con la voce più volte critica del segretario roberto monteleone rispetto all'operato dell'amministrazione quasi certa più a sinistra una lista autonoma con candidati come diego colosimo che parlano però di una formazione civica che andrà oltre i partiti è ancora presto per capire come si muoveranno i cinque stelle mentre grandi manovre sono come sempre in corso al centro non si esclude infatti una grande alleanza dove potrebbero approdare anche esponenti di cittadini protagonisti lasciando fuori solo casa delle sinistre e lega nord subito dopo il periodo natalizio i partiti locali inizieranno a stringere il cerchio su alleanze e candidature e come sempre accade nella politica caloziese potrebbero non mancare colpi di scena e qualche fuoco d'artificio durante la campagna elettorale eccoci ora con il nostro ospite monsignor angelo riva parroco di lorentino sopracornola e carenno benvenuto monsignore o don angelo buonasera ciao matteo è meglio don angelo sapete dei titoli che trovano il tempo che trovano è quello che penso io parliamo parliamo delle tue parrocchie carenno lorentino sopracornola ci sono molte iniziative non solo in vista del natale ma anche iniziative che coinvolgono la comunità in opere di interesse pubblico quali va bene innanzitutto invece c'è la classica presentazione dei presepi viventi che faremo per esempio lorentino sopracornola ecco nella nelle messe della notte appunto della della vigilia diciamo così di natale mentre appunto a carenno invece lo faremo il giorno dell'epifania accanto a questo c'è un'iniziativa particolare che è steso soprattutto alla comunità di carenno dato che abbiamo dei ragazzi richiedenti asilo in due strutture differenti appunto col consiglio pastorale parrocchiale abbiamo proposto la possibilità di poter accogliere di poter ospitare nel periodo di natale appunto alcuni di questi ragazzi ecco questo punto anche un po come superamento delle tensioni che ci sono stati i mesi scorsi al momento dell'accoglienza dell'arrivo di questi ragazzi che hanno creato inevitabilmente appunto dei disagi delle fatiche ecco ciò che mi ha stupito che dopo la proposta che ho fatto circa una settimana fa già sette famiglie hanno chiesto la disponibilità per poter ospitare per le prossime festività dei ragazzi questo mi sembra un segno bello che dica appunto anche l'autenticità e la bellezza del natale ripeto al di là delle fatiche e delle incomprensioni che ci sono state all'interno di quello che è il significato profondo e vero appunto dell'accoglienza da qualche tempo c'è un accordo anche con il comune per aiutare le famiglie in difficoltà più in generale anche le famiglie italiane carenesi come la situazione? Sì già dallo scorso anno col comune abbiamo appunto avviato questa proposta coinvolgendo soprattutto le varie associazioni e vari gruppi e devo dire che c'è stata una e c'è tuttora una corrispondenza ecco mi piace precisare questo che non è solo un'attenzione legata ai lontani, agli immigrati, a chi ci ha raggiunto, alle famiglie appunto che non appartengono di immigrati diciamo così alle comunità di riferimento ma anche appunto questo progetto intende di aiutare soprattutto anche le nostre famiglie ecco anche perché le nostre famiglie le persone locali difficilmente osano chiedere però appunto in qualità di parroco è chiaro che vengo a sapere dalle situazioni abbastanza complesse e difficili appunto sta un po' da parte mia all'interno della comunità avvicinarle e intervenire appunto per esempio per poter parlare pagare qualche bolletta e consegnare appunto qualche cosa rispetto agli alimenti. Parlavamo anche di strutture, l'oratorio sistemato a Carenno, cioè c'è un impegno anche dal punto di vista degli spazi e la generosità dei fedeli dei parrocchiani è importante. Sì colgo davvero l'occasione perché mi sembra davvero bello tenere presente che Carenno, tutta anche l'Orentino e sopra Corona, però in particolare davvero Carenno anche perché è chiaro 1500 abitanti, è una realtà molto bella, molto vivace e in questi anni appunto abbiamo realizzato una struttura nuova, la comunità, la sala della comunità, una struttura polivalente e poi grazie appunto anche al contributo di un privato abbiamo realizzato anche il campetto sintetico dove appunto i ragazzi possono giocare, possono trovarsi e anche la struttura polifunzionale permette alla comunità di incontrarsi dentro le varie proposte, le varie attività che facciamo durante l'anno. Ecco ciò che mi piace davvero tenere presente e ricordare qui nel grazie che estendo da questa sede alla comunità di Carenno che c'è stata e c'è costantemente una generosità, il fatto che io non ho mai sollecitato una volta a contribuire economicamente per la realizzazione di queste strutture è un segno positivo perché appunto la gente ha preso a cuore e ha dato e da senza davvero permettevi il termine appunto rompergli le scatole, insistere appunto anche nella ricerca o nella richiesta economica. Un'altra cosa bella è viene da quest'estate che abbiamo realizzato il rifacimento del tetto e delle facciate della piccola chiesetta verso il monte del Pertuis, la Madonna della Cintura, la Forcella. È stato molto bello perché appunto abbiamo pagato quelle che erano le strutture appunto per il rifacimento di questo tetto però c'è stata la partecipazione dei volontari, i volontari non hanno realizzato in toto sia il tetto come anche la tinteggiatura delle facciate, gli amici di Boccio come anche alcuni di Carenno e anche altri volontari delle frazioni limitrofe. Quindi è stata una bella iniziativa, molto bella. Grazie, belle notizie. Quindi tra poco Monsignore o Don Angelo torneremo a parlare con te di una notizia molto importante. So che non volevi parlarne ma noi siamo riusciti a convincerti. Noi ora continuiamo con il nostro settimanale, spostiamoci a Oginate dove c'è un problema, ma un allarme sicurezza per un tratto di strada davvero pericoloso. Buche attraversamenti incompleti, vediamo. Strada Colabrodo a Oginate. Sono allarmanti le condizioni di un tratto di via Spluga lungo la provinciale 72. A sollevare il problema all'opposizione civica di area centrodestra, Oginate si cambia che va all'attacco dell'amministrazione Passoni in merito alla manutenzione strade e alla sicurezza. Ma i lavori relativi all'attraversamento pedonale in quel tratto di via Spluga non erano imminenti? Cosa aspettiamo che succeda qualcosa di poco piacevole? Si domanda il capogruppo Riccardo De Capitani. Il problema si trascina da tempo, intanto questa è la situazione di oggi. Asfalto frantumato, centinaia e centinaia di veicoli e mezzi pesanti che passano tutti i giorni, peggiorando le condizioni della carreggiata. Da notare che anche la rete arancione posta per non fare attraversare è stata divelta da due settimane. Quindi il risultato è che le persone stanno utilizzando l'attraversamento non in sicurezza. Il capogruppo di opposizione rincara quindi la dose. Abbiamo chiesto da tempo all'amministrazione di intervenire. La situazione è davvero pericolosa. In molti abitano in quella zona e anche i camion passano con le ruote proprio sopra la parte danneggiata in calza Riccardo De Capitani. Fosse stato io il sindaco, avrei preso la cornetta e chiamato subito la provincia per sollecitare un intervento immediato, provvedendo provvisoriamente con dei New Jersey removibili. Il sindaco Marco Passoni respinge però le critiche. Noi avevamo avvisato la provincia, un primo intervento c'è stato, ma la neve dei giorni scorsi deve aver peggiorato la situazione, replica Passoni. Il comune aveva approvato in estate il progetto per l'attraversamento, che ha subito delle variazioni in corso d'opera per garantire maggiore sicurezza. Ci sono quindi stati dei ritardi per motivi tecnici non dovuti a noi. Ora, conclude il sindaco, ho sollecitato un nuovo intervento sull'asfalto e soprattutto un'accelerazione delle opere dell'attraversamento nel suo complesso. Molte le iniziative in vista del Natale a Erve, c'è una splendida mostra presepi municipio e un'altra mostra dedicata sempre alle natività nelle contrade del paese. Vediamo. Numerose le iniziative in programma Erve durante le festività natalizie, cosa proponete quest'anno? Quest'anno, dopo la mostra dei Babi Natale dello scorso anno, i Babi Natale di Dejan, proponiamo una mostra sui presepi, sempre realizzata presso la nostra sala consigliare, dove sono stati esposti più di 35 presepi. Oltre a questa iniziativa, un concerto presso la chiesa parrocchiale col maestro Giuseppe Capoferri Baritono e il maestro Damiano Rotta all'organo, un concerto di Natale molto molto bello. Inoltre, nelle contrade e nelle frazioni di Erve, quest'anno sono stati già allestiti ben 13 presepi che verranno giudicati da una giuria che farà il giro per il paese e verranno premiati all'Epifania, sono presepi all'aperto, quindi invito un po' tutti a visitare Erve durante il periodo natalizio. Si è mobilitato tutto il paese, in prima parte la ProErve che ha così organizzato assieme tutte le altre associazioni questa stupenda manifestazione. Nelle contrade ci sono questi 13 presepi da visitare, sono praticamente nelle contrade e realizzati dai cittadini residenti a Erve, ognuno ha scelto una particolare località, ha scelto un certo ambiente dove ha costruito questi presepi. Grazie alla collaborazione degli amici del presepio di Lecco, di cui sono socio, abbiamo avuto la fortuna di avere parecchie opere e anche di un buon livello per avere una mostra ricca che copre un po' tutto l'arco della provincia e non solo il comune di Erve ma tutta la provincia di Lecco. Infatti sono ben 35 opere di diverse dimensioni e di diverse fatture e ritengo che siano anche di un buon livello. Di particolare c'è una mostra diciamo fatta con materiale vetro e legno che è molto originale e caratteristica e fuori dai canoni tradizionali ed anche altri presepi fatti in una sveglia, in un gerletto, in una televisione. Rieccoci ora con il nostro ospite Monsignor Angelo Riva, lo abbiamo anticipato prima, io da tempo che ti chiedo di parlare di una bella notizia. Il Papa, Papa Francesco, ti ha scritto una lettera, più di una lettera in realtà di suo pugno, firmata e scritta da lui stesso per dirti cosa. Ma il tutto è nato dal fatto che io mi sentivo fortemente provocato da questo Papa che da tempo tirava un po' le orecchie a noi preti perché non sentivamo e non sentiamo troppo dell'odore delle pecore per cui ci siamo un po' lontani dalla gente. Allora provocato fortemente da questo sollecito di Papa Francesco ho scritto una lettera nella quale ho voluto dire che lui aveva ragione, per carità, perché è vero, anch'io sento questo disagio, però dall'altra parte come parroco, avendo anche tre comunità, sento davvero il peso e l'incombenza appunto amministrativo, l'apparato burocratico, appunto i preti sanno bene queste cose, quindi tante volte l'apparato amministrativo burocratico ti distoglie dal tempo da dedicare alla tua gente, alle pecore, appunto parafrasando questa cara immagine di Papa Francesco. E ciò che mi ha stupito è questo, che il 2 giugno dello scorso anno io ero a battezzare il bambino di una coppia di amici e dopo il battesimo il cellulare continuava a suonarmi appunto nella tasca e a un certo punto mi chiama un amico prete al quale ho consegnato la lettera, lui ha incontrato il Papa e quindi ha consegnato questa lettera dicendo guarda che il Papa nella catechesi al giubileo sacerdotale ha letto la tua lettera pubblicamente, quindi sono rimasto molto emozionato, mi ha procurato appunto un certo disagio e dopo aver letto appunto questa mia lettera davanti ai sacerotti radunati nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma durante il giubileo sacerdotale per il giubileo della misericordia, qualche giorno dopo appunto mi chiamo al postino e ricevo appunto una missiva, mi ha colpito, l'apro, è scritta proprio a mano dal Papa, ciò che mi ha colpito è che non solo la lettera era scritta direttamente dal Papa, dove appunto ha commentato la lettera, ha detto le sue considerazioni ma anche l'indirizzo, tutto manualmente. Lettera che ti abbiamo convinto a portarci per far vedere che è proprio scritta da Papa Francesco che ha scritto la prima lettera che è arrivata, la prima è di dentro trovi la missiva. Raccontaci cosa ti ha scritto, un grazie, ti ha scritto un grazie. Sì, sì, ha scritto grazie, però non si è limitato solo a ringraziare ma ha anche commentato appunto dicendo che nella lettera che gli ho detto lui sentiva davvero la verità di quello che gli avevo confidato e da lì appunto sembra che faccia trasferire il desiderio di Papa Francesco di venire appunto anche incontro noi sacerdoti nell'aiutarci rispetto alle difficoltà che viviamo, da ciò che tante volte ci tiene distanti un po' dalla gente. Carenno è diventata carennico per errore. È la prima lettera che ha scritto, ha messo appunto carennico, qualche giorno dopo, questo è del 3 giugno, qualche giorno dopo, il 10 giugno, mi trovo appunto un'altra lettera dove mi ha mandato il fascicolo praticamente che raccoglieva le catechesi del Giubileo. Chiamo via che è delicata. Il Giubileo è dove appunto all'interno si trovava pubblicata appunto quella che è la lettera che ha letto. Hai avuto occasione di parlare col Papa? Ma dopo c'è stato appunto qualche tempo, dopo ho potuto partecipare all'udienza generale, alla fine mi ha salutato, mi ha incontrato. Ciò che mi ha stupito fa parte dello stile ancora di questo Papa è che lui appena mi ha visto, non mi ha detto Don Angelo, mi ha detto finalmente conosco il pastorello di Carenno. Mi ha colpito che dicesse il paese di Carenno. Mi ha ribadito appunto poi il fatto che la lettera l'aveva colpito anche perché racchiudeva delle cose interessanti che lui come Papa da tempo stava pensando rispetto alle difficoltà di noi preti. Grazie, grazie Don, prima di salutarti però un flash perché purtroppo è venuta a mancare una figura simbolo e molto stimata proprio a Carenno, il capogruppo degli Alpini Natale e Carsana, una figura molto importante come ti senti di ricordarla se spento a 73 anni. Mi fa piacere, penso che davvero questo mi fa molto piacere, ricordare il carissimo amico e capo Alpini Natale e Carsana. Ciò che mi ha colpito e che mi colpisce di lui come ho ricordato anche nell'Omelia funebre è che la comunità veniva prima di tutto, gli altri venivano prima di tutto, non lo dico appunto come retorica. E quindi se Natale e Carsana non ha parlato e non parlava di bene pubblico, come tante volte appunto noi parliamo spesso di bene pubblico e poi o di bene comune, però di bene pubblico e di bene comune rischiamo di farne ben poco. Natale e Carsana ha parlato poco di bene comune ma ne ha fatto tanto, questo è il motivo per cui davvero voglio dire e da qui grazie anche a lui. Grazie, grazie Don Angelo, noi continuiamo con il nostro settimanale, abbiamo intervistato il garlatese Matteo Polvara che porterà in scena uno spettacolo, un emozionante viaggio al planetario di Lecco. Matteo Polvara, attore garlatese, presidente dell'associazione Tram, porterà in scena al planetario di Lecco nella serata di sabato 16 dicembre uno spettacolo dedicato al viaggio, in particolare al viaggio di Magellano. Che spettacolo sarà? Allora, lo spettacolo che porterò in scena è Maga Iaes, storia di un viaggio, che appunto come dice il titolo stesso racconta il viaggio di Ferdinando Magellano. Questo monologo è la storia sì di un viaggio, ma è anche la storia di un uomo, quindi Magellano, che ha lottato realmente contro tutto e contro tutti per realizzare il suo viaggio, il suo sogno. Ci sono uomini, di fatto questa spedizione a un certo punto è andata persa, non sapevano esattamente dove andare, ma con la loro tenacia, la loro convinzione sono riusciti a raggiungere poi la meta e o quantomeno l'obiettivo che si erano prefissati. Viene raccontato il viaggio di Magellano dal punto di vista storico. Se vogliamo rappresentare la vita con la metafora del viaggio, in questo spettacolo esce anche la mia personale idea di come deve essere la vita, di come deve essere vissuto il viaggio della vita e cioè come lo ha vissuto Magellano con passione, con tenacia, con coraggio e con la voglia veramente di andare avanti fino in fondo. Ringrazio Andrea Cane, l'autore, ringrazio il planetario di Lecco per avermi dato questa occasione e ringrazio eventualmente tutto il pubblico che incontrerò proprio da molto molto vicino. Perché il viaggio di Magellano al planetario? È la location ideale perché solo qui è possibile recitare questo spettacolo avendo sopra di noi la simulazione esatta del cielo reale che Magellano vide durante il suo viaggio nei primi decenni del 1500, quindi possiamo riprodurre il cielo di 500 anni fa a tutte le latitudini della Terra. Ricordiamo che Magellano fu il primo a descrivere attraverso Pigafetta, che fu il narratore della sua storia, le due nubi di Magellano, cioè le due galassie più vicine a noi che sono visibili appunto dall'emisfera australe e fu il primo a parlare di molte regioni del cielo australe che oggi ben conosciamo ma che allora erano totalmente sconosciute. Quindi ha un'altissima suggestione recitare quest'opera in un posto come il planetario dove al buio abbiamo sopra di noi il cielo di 500 anni fa. Entra nel vivo un'iniziativa benefica, molto originale e curiosa a Montemarenzo, il censimento delle galline. Entra nel vivo una delle più originali e curiosi iniziative di Teleton in provincia di Lecco, il censimento delle galline che si tiene a Montemarenzo. Io ora mi trovo nel pollaio del signor Mario Malighetti con Angelo Fontana che è l'ideatore di questa curiosa iniziativa nonché uno dei volti simbolo di Teleton. In cosa consiste questo curioso censimento delle galline e come sta andando l'iniziativa? Sono 26 anni che facciamo Teleton. Quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere le galline di Montemarenzo. Per me è stata un'iniziativa, una delle più curiose e vero, ma la più simpatica perché serve a far ridere la gente. Oggi come oggi far ridere la gente è importantissimo. A Montemarenzo siamo più o meno 2000 abitanti e gli ho detto che ho scoperto che c'erano 36 pollai. Chi aveva meno galline ne aveva due, chi ne aveva di più ne ha 40. Ma la domanda quante galline ci sono a Montemarenzo ridevano tutti e quindi è bella questa iniziativa. Quindi voi avete fatto questo censimento per partecipare, si fa una donazione, si dice un numero per cercare poi di indovinare il numero delle galline, è giusto? Esatto, esatto. Qui nel nostro territorio, nei nostri bar eccetera, ci sono delle persone che hanno un blocchetto. Loro devono aderire con il numero delle galline e poi donano un euro a Teleton. Chi si avvicina di più, perché non è facile, invito anche fino al 23 dicembre chi vuole partecipare a questa iniziativa. Io facevo il muratore, però le galline erano anni che le ho sempre tenute, sette volte anche 20, 30. Qui c'era il mio nonno, mio papà e dopo ho cominciato io quando ero grande a tenere le galline. Cosa ne pensa di questa iniziativa di Teleton? È una bella iniziativa perché adesso c'è più nessuno che tiene le galline, almeno lanciamo un po' l'agricoltore, l'allevamento delle galline. Una lettera ai commercianti e una mostra dedicata al lavoro. Questa è l'iniziativa del gruppo civico Cambia Calolzio. Il gruppo civico Cambia Calolzio ha deciso di scrivere a molti calolziesi, non solo, due lettere diverse per dire e chiedere cosa. Noi abbiamo scritto una lettera a tutti i neo cittadini italiani, stranieri che da anni risiedono a Calolzio e che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Abbiamo scritto una lettera a firma di Bubudia dove raccontiamo chi siamo, raccontiamo cosa vogliamo per Calolzio e chiediamo la partecipazione attivamente al nostro progetto politico affinché ci diano una mano nel realizzare un programma più vicino ai cittadini e anche relativamente alle tematiche della migrazione e dell'integrazione. Per quanto riguarda invece la seconda lettera che dovremo ancora spedire, si tratta di un questionario utilizzato a tutti i commercianti calolziesi. Ci sono delle proposte concrete per la difesa del commercio divicinato e in modo diretto chiediamo appunto il contributo ai commercianti in proposte concrete per la tutela del commercio divicinato. Nei giorni scorsi avete organizzato anche un'iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del lavoro precario. Sì è vero, noi abbiamo fatto un concorso fotografico, 35 fotografie sul tema del lavoro perché? Perché noi riteniamo che il tema del lavoro deve essere centrale nella discussione politica di un'amministrazione, deve avere un ruolo chiave, rientrare nella discussione politica con delle proposte concrete, per esempio con un fondo di solidarietà per la difesa dell'artigianato, per l'incentivazione dell'artigianato e del commercio divicinato. Chi ha vinto il concorso? Ha vinto una ragazza di Garlate, Martina Seccomanni, che ha fotografato un artigiano nella sua attività lavorativa. Ora ringrazio il nostro ospite Monsignor Angelo Riva per essere stato con noi, grazie Monsignore, grazie Don Angelo. Grazie a te Matteo, grazie alla redazione, grazie a tutti appunto per la disponibilità ad ascoltare, grazie. Grazie a voi per averci seguito, vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi sul nostro canale YouTube di Teleunica e sui nostri social Twitter e Facebook Teleunica. Buon Natale, buona continuazione sulla nostra emittente, ci vediamo a gennaio. Su Zucchi Vitara, con cerchi in lega da 17, rear camera e schermo touch da 7 pollici. Oggi tu a 16.900 euro, tutto di serie e senza sorprese. Su Zucchi. Concessionaria Renzo Negri, a Pescate, via Roma 28, 0341 36 22 21. www.concessionaria-renzonegri.it Panificio Stucchi Elena propone Farina Intera, la tua nuova, buona, sana abitudine alimentare. Più fibre, meno glicemia. A Calolzio Corte, in corso Dante 1. Confcommercio e commercianti presentano Notte Bianca a Calolzio Corte. Venite a scoprire l'intrattenimento per tutti. Negozi aperti, l'itinerario enogastronomico, musica dal vivo, tanti giochi e non solo. E dal 18 novembre fino al 25 dicembre, conserva gli scontrini dei tuoi acquisti nei negozi aderenti di Calolzio Corte. In palio, buoni spese e ricchi premi. Per il tuo shopping natalizio, i commercianti di via Roma ti aspettano a Vercurago per tutto il mese di dicembre. Tante iniziative interessanti e divertenti per tutte le età. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!